Si chiude un'estate di controlli intensificati per la Guardia di Finanza di Pesaro Urbino che archivia un trimestre che l'ha vista impegnata a presidio del territorio con l'impiego di 390 pattuglie che hanno portato all'identificazione di 2.800 persone di cui una tratta in arresto in quanto evasa dagli arresti domiciliari. Sono state 135 le violazioni al Codice della Strada Elevate e 77 i grammi di sostanze stupefacenti sequestrati anche grazie all'ausilio di unità cinofile che hanno portato alla segnalazione amministrativa alla prefettura di 24 persone. Numerosi gli esercizi controllati al fine di verificare il rispetto della normativa sul lavoro sommerso. Individuati 17 lavoratori in nero e 8 lavoratori irregolari. Nell'ambito dei controlli delle attività commerciali sono state verificate il rispetto della normativa in maniera di canne d'abbonamento speciale RAI e la corretta emissione telematica degli scontrini ricevute fiscali con il riscontro di 90 omesse memorizzazioni dei corrispettivi. Sono stati anche sequestrati 3.000 prodotti commerciali reputati non sicuri e 629 articoli contraffatti col deferimento di tre soggetti all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato in materia.